Giochi quasi fatti per le candidature a sindaco nei quattro comuni Iblei chiamate al voto il 10 giugno prossimo Ragusa, Modica, Comiso e Idaccate, ormai manca a circa un mese la scadenza del termine per la presentazione delle liste Svolta sulle indagini del tentato omicidio avvenuto la sera del 12 febbraio a Pachino dove un uomo è stato attinto da alcuni colpi di gamma da fuoco mentre si trovava all'interno di un bar è stata eseguita la custodia cautelare nei confronti di un 32enne pregiudicato, Giovanni Vizzini Misure straordinarie verranno adottate dall'ASPA di Catania per contrastare i contagi di morbillo due decessi che si sono verificati negli ultimi dieci giorni ed è per tale ragione che è stato fissato un incontro dall'assessore regionale RATSA per martedì 10 aprile La mostra delle riviste storiche della difesa della RATSA è stata presentata stamattina nel Ciclastico di Modica in occasione degli 80 anni dall'emanazione delle leggi razziali Si è anche tenuto un convegno dal titolo, il liceo si mette in mostra Buon pomeriggio ancora, bentrovati a questa nuova edizione di MTG Lo avete sentito in apertura, vi parliamo di politiche, delle amministrative perché è partito il countdown Sono stati ufficializzati i nomi dei candidati a Sinnaco nelle quattro città in provincia di Ragusa dove si va al voto il prossimo 10 giugno Si tratta appunto di Ragusa, Modica, Vittoria e Acate Intanto manca circa un mese alla scadenza del termine per la presentazione delle liste Allora facciamo il punto della situazione nel servizio di Carmela Minardo A Ragusa si profila una corsa ad otto per la poltrona di sindaco Ai candidati della prima ora, Peppe Calabrese per il Lepidi, Sonia Migliore, sostenuta da Lab 2.0 Giorgio Massari in rappresentanza di tre liste civiche sinistra italiana e Maurizio Tumino, al momento appoggiato da insieme si aggiungono Peppe Cassi che raggruppa parte del centrodestra e Carmelo Ialacqua Antonio Tringali dovrebbe rappresentare il Movimento 5 Stelle Ancora i vertici nazionali non si sono espressi su liste e candidati Rimane in dubbio la candidatura di Gianni Iacono Sul fronte, Alleanza e Forza Italia potrebbe dividersi E di queste ore l'out-out del coordinatore Giovanni Mauro che non ha digerito l'indicazione di Peppe Cassi proposto da una parte di coalizione Candidatura gradita ai deputati Minardo e Ragusa Mauro ha chiesto di procedere con le primarie per individuare il candidato o Forza Italia andrà da sola A questo punto è molto probabile che il partito di Berlusconi si spacchi La componente di Mauro potrebbe decidere di appoggiare Maurizio Tumino A Modica si ricandida il sindaco uscente Ignazio Abate sostenuto da tre liste civiche Per il centro-sinistra Salvatore poi domani ufficializzerà la propria compagine a breve L'attore Carlo Cartiere attende il via libera dal Movimento 5 Stelle Resta da definire nel centro-destra la possibilità di convergere su programmi e addivinire ad una candidatura a sindaco unitaria Oggi si è svolto un incontro interlocutorio in cui è stato fatto il punto sulla situazione e a cui hanno partecipato i due candidati a sindaco Roberto Garaffa attuale presidente del Consiglio Comunale in rappresentanza di una lista civica Gabriele Amore per la Lega Fratelli d'Italia con il portavoce Emanuele Cavallo e per Forza Italia Tato Cavallino Prossimo appuntamento lunedì per definire il tutto A commiso Filippo Spataro sostenuto dal PD si ricandida a contendergli la poltrona di primo cittadino l'ex deputato nonché sindaco Pippo Di Giacomo sostenuto da una lista civica Maria Rita Schembari è il candidato del centro-destra e per il Movimento 5 Stelle Patrizia Bellassai Ad Acate potrebbe ripensarci il sindaco uscente Franco Raffo che tempo fa aveva annunciato di non volersi candidare al momento unico sfidante per il Movimento 5 Stelle Vito Cultrera anche in questo caso si attende il pronunciamento dei vertici nazionali del Movimento Sono state presentate le quattro liste a sostegno del candidato sindaco a Modica lo sindaco uscente Ignazio Abbate in vista dell'amministrativa del prossimo 10 giugno il primo cittadino ha infatti incontrato ieri 96 candidati al Consiglio Comunale delle quattro liste due di queste Modica 2018 e Ignazio Abbate sindaco e fare Modica erano già presenti nella campagna di 5 anni fa le liste nuove sono Modica Est e non insieme per Modica nel corso della serata è stato presentato il programma elettorale il claim che accompagnerà la campagna elettorale del sindaco Abbate sono più che orgoglioso della squadra che abbiamo formato ha dichiarato il primo cittadino perché abbiamo riunito il meglio della società civile Modicana nelle nostre liste ha continuato Abbate ci sono professionisti stimati, giovani, sportivi esponenti di ogni categoria della società civile ma anche persone con un importante curriculum politico e giovani che si affacciano per la prima volta ad una competizione elettorale con uno straordinario entusiasmo Ultima pagina c'è adesso la cronaca con la svolta delle indagini sul caso dell'attentato omicidio a Pachino il 12 febbraio quando un uomo è stato attinto da colpi di arma da fuoco mentre si trovava all'interno di un bar in compagnia di altri pregiudicati proprio questa mattina è stata seguita l'ordinanza di custodia catolare in carcere nei confronti di un 32enne originario di Avola Giovanni Vizzini lo stesso che era stato arrestato il 12 febbraio scorso in flagranza di reato sempre per il tentativo di omicidio ma era stato rimesso in libertà in quanto il GIP non aveva convalidato l'arresto oggi però il giudice delle indagini preliminari ha sposato in pieno l'attività investigativa della polizia di Pachino tutti i dettagli nel servizio il 12 febbraio a Pachino si scatena la guerra dei clan un uomo viene brutalmente picchiato e trovato in una pozza di sangue nelle case popolari di via Cappellini il figlio Giovanni Vizzini di 32 anni carico di rabbia e odio prende la pistola e va al bar scacco matto ferisce un 41enne pluri pregiudicato di Porto Palo Giuseppe Aprile scappa ma l'auto non parte corre a piedi come si nota dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza stamattina Vizzini è stato raggiunto da una ordinanza di custodia caudalare in carcere messa dal GIP presso il tribunale di Siracusa su richiesta della locale procura della Repubblica la polizia diretta dal vicequestore aggiunto Maria Antonietta Manandrino aveva arrestato in flagranza di reato il 32enne ma il GIP non aveva convalidato l'arresto pochi giorni dopo il tentativo di omicidio per le parziali fonti di prova e per l'inconsistenza delle testimonianze è considerata la grande omertà tipica regola delle associazioni mafiose nei mesi a seguire sono state cristallizzate immagini e testimonianze il GIP ha confermato questa volta il buon esito dell'attività investigativa della Polizia di Stato con le immagini registrate con il drone è stato ricostruito il percorso effettuato il 12 febbraio scorso da Vizzini che dopo aver trovato il padre ferito è salito in auto e ha percorso il tragitto che dalle case popolari conduce al bar scaccomato chiuso dalla Polizia al ritrovo di pregiudicati l'unica certezza al momento è che c'è stato un conflitto a fuoco il 32enne ha sparato riducendo in fin di vita il pregiudicato 41enne che era in compagnia di altri pluri pregiudicati e persino del figlio del boss del clan Giuliano ma i presenti al bar hanno risposto esplodendo altri colpi di pistola arrivati nello sportello dell'auto di Vizzini il quale ha dovuto abbandonare il mezzo perché non partiva ed è fuggito a piedi gli abiti indossati da Vizzini la sera del tentato omicidio e intresi di sangue sono stati rinvenuti nella sua abitazione nella lavatrice e sono stati sequestrati la polizia ha tentato di sentire i testimoni del bar ma nessuno ha aperto bocca il ferito adesso si trova ricoverato all'ismedì di Palermo le sue condizioni sono stazionarie il movente della sparatore da ricercarsi negli affari illeciti dei clan anche se è ancora da accertare come continuano le indagini per verificare il motivo per il quale è stato picchiato a sangue il padre di Vizzini un conflitto a fuoco dei contorni ancora da definire ma conclusi con l'arresto di chi ha premuto il grilletto offrendo il polipregiudicato Giuseppe Aprile resta in prognosi riservata uno degli automobilisti coinvolti nell'incidente che si è verificato ieri sera intorno alle 20.30 sulla strada statale 194 Modica Marina di Modica sul posto sono intervenuti i carabiniani della stazione di Modica i vigili del fuoco per prestare soccorso ai feriti per stabilire la dinamica dell'incidente che vedrebbe coinvolti due veicoli da una prima ricostruzione pare che un Audi A4 che procedeva in direzione Modica abbia travolto una Fiat 600 ferma sul cilio della strada perché è rimasta in panne ad averla peggio il conducente dell'Audi un noto parrucchiero originario di Modica ma che lavora a Pozzallo l'uomo ieri sera è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Canistaro di Catania dove è stato sottoposto un intervento alla mano per le gravi lesioni riportate e dove è tuttora recuperato nel reparto di rianimazione per il grave proli-trauma con traumi al tronco ferite lievi invece per il conducente dell'altro veicolo anche il limonicano che non ha riportato alcuna lesione perché si trovava all'esterno dell'auto al momento dell'impatto due catanesi sono stati arrestati dai carabiniani per il tentato furto di un bancomat dell'agenzia del Monte dei Paschi di Siena a Floridia centro del Siracusano i due fanno parte di un commando composto da almeno sei persone che questa notte ha assaltato con un escavatore l'agenzia secondo una ricostruzione la ricostruzione dei militari dell'arma la banda ha agito alle tre utilizzando l'escavatore e anche un camion che è sorrubato per trasportare la macchina del bancomat il gruppo è stato poi messo in fuga dal sistema d'allarme i carabinieri hanno bloccato uno degli assalitori catturando il secondo in un appezzamento di terreno dove era stato individuato dall'elicottero delle forze dell'ordine e la polizia di stato di Ragusa ieri arrestato in esecuzione dell'ordine di carcerazione messo dall'ufficio di sorveglianza di Siracusa un pregiudicato di 29 anni già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare per altri reati il 26 marzo scorso il ragazzo si è allontanato da casa senza alcuna autorizzazione da parte del giudice pertanto è stata sospesa la misura alternativa della detenzione domiciliare ed è stato così condotto in carcere la stessa accusa nei confronti di un altro pregiudicato di 25 anni che è stato recluso nella casa circondariale di Ragusa voltiamo pagina parliamo adesso delle misure straordinarie adottate dall'ASP di Catania per contrastare i contagi di morbillo che si stanno verificando proprio a Catania due i decessi che si sono verificati registrati negli ultimi dieci giorni proprio l'ultimo quello di un bambino di dieci mesi ed è per questo che verranno fatte delle anche aperture straordinarie degli ambulatori per permettere un maggiore numero di vaccinazioni soprattutto gli adulti potranno verificare se hanno contratto la malattia sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Sara Donzuso cercheremo di migliorare ancora di più la nostra offerta per contenere una malattia come il morbillo che non è certo semplice da contenere lo ha affermato il responsabile del servizio di epidemiologia dell'ASP di Catania Mario Cuccia al termine di un vertice tenutosi questa mattina presso l'ASP Etnea alla presenza del commissario Giammanco per potenziare i servizi alla luce dei tanti contagi di morbillo che si stanno registrando nella città di Catania e soprattutto dopo il decesso del bimbo di dieci mesi avvenuto ieri e la morte della 25enne avvenuta dieci giorni fa il dottor Cuccia ha spiegato come lo scopo primario delle azioni che verranno messe in campo sarà quello di proteggere le categorie più fragili per questo motivo ci saranno le aperture straordinarie degli ambulatori il sabato per poter permettere a più soggetti possibili di vaccinarsi e inoltre verrà data la possibilità agli adulti di verificare se si è contratta la malattia da bambini questo perché come sottolineato dall'esperto l'età suscettibile si è spostata e dunque se i bambini in età pediatrica possono essere colpiti sono sempre una minoranza rispetto agli adolescenti e agli adulti che possono contrare il morbillo considerando anche che 25-30 anni fa non era obbligatorio il vaccino per il morbillo ecco perché gli adulti possono fare un semplice prelievo del sangue e verificare se sono presenti gli anticorpi che testimoniano se si è stati vaccinati se si è contratta la malattia o se si è scoperti intanto il sindaco di Catania Enzo Bianco dopo aver sentito la ministra della salute Beatrice Lorenzini l'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza ha fissato per venerdì 13 aprile alle 16.30 nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti la conferenza dei direttori generali delle aziende sanitarie e cittadine per discutere proprio delle morti per morbillo nel corso della riunione sarà analizzata la situazione ieri intanto il primo cittadino preso atto che la percentuale delle vaccinazioni nella città secondo quanto è stato comunicato dall'ASP è superiore alla media nazionale intanto anche l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza ha fatto sapere di avere convocato per martedì 10 aprile alle 15.30 a Palermo un tavolo tecnico per discutere dei casi di morbillo in Sicilia weekend sicuro dei carabinieri della compagnia di Ragusa con controlli H24 della fascia costiera maggiormente popolata durante il fine settimana sono stati fermati due giovani un 24 e non 30enne sorprese a bordo di un'auto con uno zainetto con all'interno 6 grammi di marijuana un bilancino di precisione e 95 euro in manco noti di vario taglio provento dello spaccio dopo la perquisizione domiciliare sono stati rivenuti 40 grammi di marijuana e 12 di hashish oltre alla droga sono stati sequestrati il bilancino di precisione per pesare la droga e delle buste di plastica per da cui ricavare le dosi i giovani sono stati poi posti agli arresti domiciliari previsti posti di controllo nelle discoteche con l'ausilio di etilometri per evitare le stragi del sabato sera e l'abuso di sostanze alcoliche già nelle prime ore sono stati controllati più di 60 veicoli identificati gli occupanti eseguite diverse perquisizioni per la ricerca di sostanze sue facenti soprattutto nei confronti di soggetti con precedenti penali specifici torniamo a parlare della grave situazione dei dipendenti del consorzio di bonifica di ragusa dei lavoratori ex precari anche assunti con la sentenza del tribunale che sarà discussa appunto nell'incontro che si trà lunedì prossimo alle 18 a Palermo gli operatori avevano protestato lo ricorderete anche salendo sul tetto della struttura della sede del consorzio di bonifica a Ragusa proprio perché da 14 mesi non percepiscono lo stipendio le proprie speranze sono riposte nell'atteso incontro che si terrà lunedì pomeriggio a Palermo tra il presidente della regione Nello Musumeci il segretario della Flai CGL Salvatore Terranova e una delegazione di lavoratori sono gli operatori del consorzio di bonifica Otto Ragusa ex precari immessi in servizio a tempo indeterminato in esecuzione di una sentenza del tribunale un'avvertenza che ha diviso i sindacati alla riunione infatti sarà presente solo la Camera Territoriale perché così come da più parti confermato la CISL e la UIL non hanno voluto aderire nonostante più volte invitate a condividere la protesta da 14 mesi sono senza stipendio situazione che aveva portato circa 20 lavoratori martedì scorso a protestare salendo anche sul tetto della sede Eblea poi un incontro con il prefetto Filippina Cocuzza che ha mediato per promuovere il confronto alla Regione da tempo reclamano i loro diritti senza ricevere nessuna risposta non sono pagati dal mese di febbraio del 2017 una situazione seria che grava su uomini e famiglie che senza entrate economiche rischiano di sprofondare nella crisi nell'esercizio finanziario varato dalla Giunta di Governo non è stato inserito il milione e mezzo di euro come contributo straordinario che avrebbe rappresentato una soluzione parziale ai problemi del mancato pagamento degli emolumenti la Regione ha stanziato solo i dodicesimi fondi che tardano comunque ad arrivare e quel poco che arriva o è destinato agli impiegati e agli operai di ruolo circa 140 unità o vengono puntualmente pignorati dai creditori il Governo ha annunciato che il 30 aprile momento in cui la legge di bilancio verrà approvata dovrebbe stanziare dei fondi per pagare parte degli stipendi per saldare il 2017 servono 4 milioni e mezzo di euro cifra difficile da reperire visto che le casse sono asfittiche lunedì per i lavoratori sarà l'occasione per rappresentare tutti i disagi vissuti dalla categoria al Governatore siciliano Il 30 aprile il punto vendita di Catania di San Giuseppe e l'arena dell'Auschan verrà chiuso lo ha confermato l'azienda durante un vertice che si è tenuto ieri con i rappresentanti sindacali ma il dato più allarmante è che l'unica possibilità di ricollocazione sarebbe un trasferimento al nord Non sono rose le aspettative per il futuro per i 108 lavoratori dell'azienda Uschan Proprio l'azienda infatti ha confermato la cessazione dell'attività per il 30 aprile e informa che nessun non player al momento è interessato al punto vendita di San Giuseppe e l'arena a Catania Dunque sono purtroppo poche le posizioni disponibili nel territorio per ricollocare questi 108 lavoratori che troverebbero eventuale spazio e una nuova occupazione nelle regioni settentrionali La trattativa è stata aggiornata l'11 aprile e i lavoratori continuano dunque a presidiare la galleria dell'ipermercato A comunicarlo sono le scriterie territoriali di Cigelle e Cisle e Will dopo un incontro che si è tenuto ieri sera tra l'azienda e i vertici nazionali dei sindacati I rappresentanti e i lavoratori hanno chiesto che si ricerchi una soluzione all'interno del territorio catenese anche attraverso piani di internazionalizzazione del lavoro come nel settore logistico che tutte le aziende del gruppo e consorelle come Smale di Bricomen che negli anni hanno usato mano d'opera tipica e a tempo determinato la richiesta è che rientrino in campo a salvaguardia i 108 lavoratrici e lavoratori ma Usciano non possiede le credenziali necessarie per discutere di ricollocazione in altre aziende e mantiene le sole linee guida di trasferimenti al nord e incentivazioni all'esodo la trattativa è stata per questo sospesa e rimandata nei prossimi giorni sempre in sede aziendale La consigliera comunale del Partito Democratico a Modica Emana Castello interviene oggi con una nota sulla fissazione della Tari da parte del Comune per il 2018 se da un lato il sindaco Abate sostiene che la riduzione della Tari si è avuta grazie alla lotta d'evasione per la Castello invece non è proprio così ce ne parla Catiuscia Carpentieri Dopo l'approvazione in consiglio comunale a Modica del piano economico finanziario dei servizi di igiene ambientale con le categorie e tariffe della tassa sui rifiuti interviene oggi con una nota stampa la consigliera comunale del PD Ivana Castello secondo il sindaco Abate scrive la Castello ci sarebbe stata una lotta all'evasione i cui risultati avrebbero portato alla riduzione delle tariffe sempre secondo quanto detto dal primo cittadino si legge nella nota stampa della consigliera del PD nel 2018 si sarebbe dovuta registrare una maggiore superficie tassabile ed un maggior numero di ruoli netti da emettere ma così non è stato scrive la Castello poiché il dividendo e il divisore del rapporto sono entrambi inferiori in pratica i cittadini e le superfici tassati nel 2017 sono diminuiti nel 2018 così come la Castello scrive in una tabella in cui si evince la superficie netta totale e i ruoli della Tari come giustifica il sindaco si chiede la Castello il fatto che nonostante la tanto declamata lotta all'evasione la superficie tassabile nel 2018 è diminuita nel 2017 anno in cui il recupero e evasione ha raggiunto il massimo stando ai ragionamenti del sindaco e ai suoi numeri il costo del servizio preventivato è il più elevato degli ultimi cinque anni così come si evince un'altra tabella pubblicata dalla Castello è vero che nel 2018 le tariffe sono inferiori rispetto al 2017 e al 2016 ma è anche vero scrive la consigliera del PD che sono state precedentemente aumentate nel 2014 e nel 2015 come riporta l'ultima tabella sono state applicate tariffe più basse di quelle attuali Ivana Castello ha dunque chiesto di essere relazionata sui cosiddetti altri costi che negli ultimi due anni sono schizzati ad oltre un milione e mezzo di euro all'attuale assessore al bilancio Aiello capire la destinazione di tanti soldi ma quest'ultima sempre secondo la consigliera del PD ha rifiutato dicendo che non sapeva a che servissero prendendo atto del rifiuto e tutelando l'interesse della città la Castello ha dunque chiesto al presidente di inoltrare la delibera alla sezione di controllo della Corte dei Conti e alla relativa procura rifiutando di rispondere tra l'altro la Aiello ha mancato di rispetto al Consiglio Comunale e al suo presidente scrive Ivana Castello sono pronta dunque a scomodare la magistratura competente per avermi impedito di svolgere la funzione istituzionale che obbligo di ogni consigliere comunale la polizia locale di Modica sta indagando su due episodi di vandalismo che hanno interessato la scalinata di San Giovanni a Modica e l'orto solidale nel quartiere sorda nel primo caso la scalinata è stata cosparsa di olio usato per la frittura già stamattina i tecnici del comune sono stati impegnati nell'obra di bonifica del sito nel secondo caso sono state distrutte le panchine in pietra che si trovano nell'orto solidale purtroppo l'imbecile sono sempre in azione ha commentato l'assessore Pietro Lorefice che è andato sul posto dopo le segnalazioni ma questa volta hanno commesso diversi errori che costeranno cari perché ci aiuteranno a identificarli e punire in maniera adeguata i trasgressori la dignità della persona con disabilità al centro della riflessione e approfondimento che si è svolta ieri sera nella parrocchia di Fatima Scicli un momento che rientra nell'ambito della commemorazione del decimo anniversario della morte di Don Oreste Benzi dignità e diverse abilità al centro del convegno organizzato dall'associazione comunità Papa Giovanni XXIII che ieri sera nel salone di Fatima Scicli ha visto un momento di riflessione e approfondimento l'iniziativa rientra nell'ambito della commemorazione del decimo anno della morte di Don Oreste Benzi era presente il vice sindaco Caterina Ricotti in rappresentanza dell'amministrazione comunale e come assessore con delega al benessere di comunità il vice responsabile generale della comunità cattolica Primo Lazzari e il vicario generale della diocesi di noto Don Angelo Giordanella Questa iniziativa si pone proprio l'obiettivo di incontrare le persone disabili svantaggiate ma proprio per affermare la loro importanza la loro diciamo così l'importanza della loro presenza dentro la storia della Chiesa della società e delle nostre famiglie Da sempre l'amministrazione comunale retta dal sindaco Enzo Giannone ha puntato l'attenzione sul diritto di cittadinanza dei più deboli come termine di riferimento per misurare il grado di accesso di tutti alla cosa pubblica La riorganizzazione dei servizi sociali di questi ultimi mesi con il recupero di un arretrato significativo in termini di azione e programmazione ha permesso dunque di attingere anche i fondi del piano di zona per interventi mirati in favore di chi è meno fortunato E associazioni come questa che nel lavoro quotidiano anche attraverso le case famiglie che danno accoglienza una casa relazioni affettive significative a chi non ne ha svolge un lavoro prezioso quindi sicuramente di supporto ma anche poi di programmazione progettazione e perché no anche di fondi per sostenerli Sono una mamma a tempo pieno 24 ore su 24 mamma per chi non ha genitore mamma per chi soffre mamma per chi non ha un riscatto sociale viviamo così donandoci tutti uno stesso con quello che siamo non siamo operatori non siamo logopedisti non siamo terapeutici siamo persone limitate ma illimitate forse nell'amore nel coraggio di darci si è parlato del fenomeno del cyberbullismo e dei bullismi questa mattina alla scuola media Giovanni XXIII a Modica c'era per noi già da Giacquinta dal bullismo nelle classi al cyberbullismo legato oggi anche all'uso dei più diffusi social network e dei canali di collegamento più moderni scelti da giovani e giovanissimi quotidianamente e questo è il tema dell'incontro tenutosi questa mattina alla scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII di Modica a cura dell'associazione culturale AMI a relazionare sul tema il dottor Giuseppe Raffa pedagogista responsabile dell'ambulatorio antibullismo ASP di Ragusa e coordinatore per il sud Italia di Conasi in Italia c'è una emergenza enorme che riguarda il bullismo tecnologico 8 ragazzi su 10 sono convinti che si tratta di uno scherzo siamo noni nel mondo per azioni attività atti di cyberbullismo e non c'è una buonissima sensibilità neanche da parte degli adulti competenti soprattutto dei genitori che spesso minimizzano o dicono beh beh sono cose di ragazzi se li possono risolvere loro tra i relatori anche Nicodemo esperienza soprattutto in termini più che di repressione che il nostro compito ordinario di prevenzione sensibilizzare i ragazzi soprattutto sui temi del bullismo del cyberbullismo è il modo migliore per evitare che i fatti accadano sono presidente dell'associazione culturale Ami e insieme alle mie amiche Antonella Gilasio e Francesca Modica rappresentiamo proprio questa nostra associazione l'obiettivo dell'associazione è molto importante che è quello di promuovere convegni meeting corsi di formazione che riguardano le problematiche dei giovani ma anche sociali e siamo presenti in tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa poi per quanto riguarda invece le altre problematiche che possono essere le violenze di genere abbiamo attivato presso il comune di Pozzallo il portami che è lo sportello antiviolenza in occasione degli 80 anni dell'emanazione delle leggi razziali il liceo classico Campailla ha organizzato una mostra delle riviste storiche la difesa della razza ritrovata nell'archivio dell'istituto prima dell'inaugurazione al via un convegno dibattito sul tema il liceo si mette in mostra nell'ambito del progetto il liceo si mette in mostra giunto al quinto anno questa mattina al liceo classico Campailla di Modica si è tenuto un incontro dibattito la difesa della razza in occasione degli 80 anni dall'emanazione delle leggi razziali l'incontro ha preceduto l'inaugurazione di una mostra dedicata alle riviste ritrovate nell'archivio storico della scuola e curata dalla professora Daniele Gianni con un momento musicale da parte di alcuni alunni del liceo gli alunni i veri protagonisti del progetto hanno partecipato con grande interesse e hanno anche letto alcuni documenti storici presenti i docenti curatori del progetto la professoressa Teresa Floridia e il professor Ottavio Lorenzo Manenti abbiamo colto l'occasione dell'anniversario dell'ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali per far sì che i ragazzi potessero toccare con mano che cosa hanno significato nella storia italiana queste leggi attraverso la lettura delle riviste e l'analisi delle immagini si tratta di 75 fascicoli della rivista che abbracciano un arco temporale che va dal 1938 al 1941 l'incontro è la conclusione del progetto che ha portato alla luce le riviste la difesa della razza precisamente 75 e ritrovate nell'archivio che sono state studiate dagli alunni focalizzando la loro attenzione su tre tematiche eugenetica meticciato antisemitismo all'incontro sono intervenuti il giornalista Giuseppe Calabrese e Valentina Pisanti docente di semiologia all'università di Bergamo e studiosa del negazionismo dell'olocausto e dei fenomeni di razzismo spesso quando si parla del dovere della memoria si tende a ricordare solo la parte più diciamo accettabile nel senso che quella che coinvolge meno direttamente le proprie colpe nazionali eccetera nel specifico invece questa mostra e tutto il discorso che si fa a proposito della difesa della razza serve a rendersi conto a fare un po' i conti con i trascorsi razzisti dei nostri nazionali che secondo me sono stati prematuramente archiviati poco analizzati entrano nella vivo i festeggiamenti della Madonna di Gulfi patrona di Chiara Monte domani il clube della festa quando a partire dalle 10 inizia la tradizionale salita del simulacro della Madonna e l'evento sarà seguito in Mondovisione dalle nostre telecamere a partire dalle 9.45 con la svelata ieri pomeriggio si sono aperti ufficialmente festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Gulfi patrona della città di Chiara Monte Gulfi presenti numerosi fedeli che hanno assistito dunque al rito della svelata nel santuario in piazza Duomo è stato padre Graziano Martorana la sua prima festa in qualità direttore del santuario e parroco di San Nicola ad aprire alla nicchia in cui è costudito il simulacro della Vergine Maria prima della svelata ha fatto il suo ingresso in chiesa a Obaiardo portato dai devoti per essere posti ai piedi del simulacro i portatori hanno legato il proprio fazzoletto per segnare il posto che occuperanno domani mattina in occasione della tradizionale salita questi intensi tre giorni collegati alla prima parte dei festeggiamenti culmineranno infatti la domenica in Albis con la tradizionale processione della salita della Madonna capace di coinvolgere migliaia di persone l'apertura della teca è stata accompagnata dalla tradizionale marcia numero 11 eseguita dal corpo bandistico Alessandro Scarlatti a cui ha fatto seguito l'inno di Maria cantato dai fedeli al tradizionale rito erano presenti il parroco della chiesa madre Don Salvatore Vaccaro il sindaco Sebastiano Gurrieri con i rappresentanti dell'amministrazione comunale e ancora i sacerdoti Filippo Bella Giovanni Piccione e Fabio Stracqua Daini oltre al maresciallo dei carabinieri Alberto Bruno comandante della locale stazione abbiamo iniziato ufficialmente la festa della Madonna di Gulfi l'augurio che posso fare a tutti i telespettatori a nome mio ma anche a nome dei sacerdoti che siamo a Chiaramonte è quello di poter vivere un'esperienza di fede autentica guardare a Maria costruire una comunità cristiana che si impegna nel quotidiano a portare avanti il messaggio del Vangelo sempre ieri sera si è tenuta l'accensione dell'artistica luminaria in piazza Duomo un altro momento particolarmente atteso dunque domani il gran giorno alle 6 c'è la vestizione della Vergine un altro rito molto speciale già dalle 8.15 prenderà il via il pellegrinaggio da Chiaramonte verso il santuario alle 9 la celebrazione caoristica sarà presieduta dal rettore del santuario padre Graziano Martorana quindi alle 10 la tradizionale salita del simulacro della Madonna e dalle 9.45 in cui inizierà la diretta dei festeggiamenti trasmessi in mondo visione dalle telecamere di video mediterraneo da piazza Duomo il direttore Catiuscia Carpentieri e Carmela Minardo racconteranno la salita e l'arrivo della Vergine Maria in piazza Duomo la diretta sarà visibile sulla nostra pagina Facebook video mediterraneo i streaming sul sito videomediterraneo.it e ancora su canale 11 e in HD su 511 del digitale terrestre potete anche interagire con noi telefonando in diretta al 339-182-6140 Sarà inaugurato domani il giardino delle api grazie alla disponibilità dell'azienda agricola Valle del Tellaro che posizionerà nell'orto sociale di Vialdo Moro a Modica un'armia per favorire lo scambio naturale dell'ecosistema una nuova iniziativa di integrazione sociale all'orto urbano dell'unità operativa complessa di psichiatria sociale di Modica l'iniziativa in collaborazione con l'associazione La Contea Creativa si svolgerà dalle 10 alle 13 Andiamo adesso allo sport hanno bissato la vittoria all'andata e si sono laureate campionesse regionali le giovani aquile under 18 della Passalacqua Ragusa che ieri erano battute in casa all'Andros Basket Palermo con il punteggio di 87-46 all'andata Ragusa si era imposta a domicilio per 80-56 continua dunque a consolidarsi ulteriormente il progetto di crescita e valorizzazione del settore giovanile della Passalacqua Ragusa che vede la società Iblea ormai stabilmente come una delle realtà più affermate dell'intera regione non solo a livello di prima squadra ma anche in quel difficile compito che è la promozione anche del reclutamento delle giovani più promettenti dell'intero panorama siciliano e non solo è davvero tutto con questa notizia grazie come sempre per averci seguiti vi aggiorno alle prossime edizioni di MTG e a voi tutti buon fine settimana grazie a tutti